Romeo per me era un grande sognatore, soprattutto aveva coraggio e non si è mai scoraggiato nonostante avesse tanti nemici intorno a lui. Romeo per me è una persona spericolata e che farebbe di tutto per ottenere ciò che vuole e infatti lo farà. Romeo per me è chiunque ama ma trova una difficoltà che li impedisce di farlo.